Quando Carlo Alberto abdica dopo la sconfitta di Novara, il figlio che gli succede col nome di Vittorio Emanuele II, ha 28 anni. È stato educato alla più rigida disciplina, alle più severe pratiche religiose nell'ambiente solenne e bigotto della corte piemontese. Carlo Alberto si era mostrato sempre duro e chiuso verso i suoi figli, mantenendoli al tempo stesso lontani da qualsiasi questione politica. Non poteva immaginare che all'erede sarebbe toccato in sorte di sostenere il più grosso peso politico che mai fosse toccato alla dinastia. La disfatta di Novara è stata come una doccia fredda sui sogni di indipendenza italiana, come su quelli della modesta ma ambiziosa monarchia piemontese. L'eredità per Vittorio Emanuele è pesante. Il giovane re si avvia a cavallo verso Vignale, dove dovrà discutere le condizioni di armistizio col plenipotenziario austriaco. Ha idee molto chiare. Conserverò intatte le istituzioni che mio padre allargite. Terrò alta e ferma la bandiera tricolore che è stata vinta oggi ma che trionferà un giorno. Questo trionfo sarà d'orin poi la meta di tutti i miei sforzi. Radezchi accoglie il nuovo sovrano con buon'aria cordialità. Gli fa intravedere persino la possibilità di qualche ingrandimento territoriale, purché revochi lo statuto e allinei la sua politica con quella degli altri monarchi italiani. La risposta di Vittorio Emanuele è di quelle che passano nei libri di scuola. La nostra stirpe conosce la strada dell'esilio, non quella del disonore. Magari le parole non saranno state proprio queste. I biografi di corte, come accade, le avranno aggiustate. Però riassumono bene il carattere del giovane monarca. Furbo, ambizioso, cavalleresco, leale. Profondamente persuaso che nessuna grandezza, nessuna volontà di potenza fossero troppo grandi per lui e per il Piemonte.